Ciao a tutti! Benvenuti in questo nuovissimo video! Io sono Erika E io sono la sorella di Erika Io mi chiamo Erika E io mi chiamo Vanessa Come vedete Come vedete, oggi siamo fuori Perché abbiamo deciso di portarvi con noi A scegliere il costume di carnevale! Io voglio i gattini E tu? Quello di elopardo? Sì Un gattino e un leopardo avremo noi? Sì E non lo so Vedremo se troveremo i costumi che li vorrete Ma bisogna comprare anche da mangiare Sì E cosa si mangia di carnevale? Non lo so Si mangiano i gnocchi Gnocchi A voi vi piacciono i gnocchi? Sì E bisogna comprare anche i scherzetti Perché di carnevale si fanno tanti tanti scherzetti Lo sai? È vero Sì Io già ho in mente qualcosa Già vi ho preparato un scherzetto Che scherzetto? Eh non ve lo dico Ve lo farò e lo vedrete Ragazze ma cosa stiamo facendo? Rimaniamo qua a giocare tutto il giorno? Sì Andiamo a comprare i fusillumi Anch'io Anch'io Vabbè Ci vediamo dopo Allora venite su Ok? Ciao Vanessa Ragazzi Mi sa che abbiamo trovato il negozio giusto Sì Ho visto lì in fondo i costumi Voi li avete visti? Wow Questo è il reparto Dove puoi trovare i costumi Tutto quello che ti serve Aspetta Chiudi gli occhi mamma Chiudi gli occhi Ok Ho una maschera Una maschera Vediamo che maschera Chiudi gli occhi Dai 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 La voglio vedere Tantà Mmm Famelo dai Mettila Aspetta Vanessa Ce l'hai questo schiocco Che Te lo devo togliere Così Oh Ma sei sicura? No Allora Vediamo qua Questo mio Wow Guardaci Questo Sono reali No Tipo farfallina Wow E dopo E dopo cosa? Cosa c'è? Ragazze Dovei trovare anche i scherzetti Va bene? Sì Guarda Erika Guarda Tu prima mi dicevi che Mini Vuoi Mini Sì Guarda Sento il pietro di Mini Lei vorrebbe un gattino Vediamo la corona Vediamo la corona Guarda Chiudi gli occhi Girati La corona Vediamo la corona Wow Vediamo la corona Cosa vuoi? Oh Così La corona Sì Mi dà Guarda distrarti di una principessa Ti aiuto io Ma Lo sai cosa abbiamo dimenticato? Cosa? Ecco Valencia si è incostrata Abbiamo dimenticato di prendere un carello Vai tu a prenderlo Dai Ti aspetto qua Cosa avete trovato? Guarda il dottore Oh Sei il dottore E dopo c'è questo Guarda Che carino Vedi ecco qua la Valencia Sei bulezzotti Ma questa cosa è? Un cane Bulezzotti Ma è un costume per grani Vedi? Sì Sì Per i grani Guarda questo Mastro Tipo con il vieto Guarda un altro Cerchito Mini Spada Una spada Compriamo Vediamo se troveremo qualcosina Erika prendi un carello per favore No lo prendo io Quale il carello? Fatto Il carello è preso Oh Ce le compriandoli Wow Sono tantissimi Una pallina Sono tantissimi Wow Una pallina Questo mi piace di più Erika Lo stai? Qua ci sono tantissimi costumini Guarda qua Ci sono veramente Tanti costumini Guardate questo Costumi No Non è così Corino Guarda quello Guarda questo Capcetto rosso Stanno tende Uuuu Sì una buca No ma non è carina Per niente Il cavallo Non guardare Non ti guardo La vediamo Oh È proprio carina Questo cavallo Un po' Un indostrotto No 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 Non è vero Non è anche questa Brutto A me non mi piace Wow Un tigre Noo È proprio straventosa Guarda la Vanessa Venite e vi faccio vedere Cosa ho visto io Guarda Guarda quello Il scherzetto Guarda questo Tipo soltano i occhi Sì Hai visto? Lo prendiamo? Sì Cosa ne dite? Prendiamo la pallina La pallina? Che cosa vuoi fare con quella pallina? Voglio giocare Sì Che bella Questa Che carina Massagina Mamma non vuoi dare Tantissime Mamma non vuoi dare No non ti guardo Cosa puoi fare? Mi metti una cosa molto divertente Tu ti metti una cosa molto divertente? Dove è Larica? Wow Ma che carina Questa mi piace Lo sai? Oh no È brutta Oh Vanessa Ciao Sei un mago? No Guardate qua Guardate qua Che sono tantissime Questo mini Wow Aspetta Guarda questa principessa Erika Ti piace? Principessa Mi piace questo Guarda le coroni qua giù Guarda quanto ci sono Questa fa fallire Mamma mi fa il vostro Delle orecchie Eh allora Senza corona E dopo c'è anche questa Guarda che carina Questa è la tua Questa così Guardami Vanessa Ho trovato Il costumino? Sì Fandelo vedere Oh Sì Sì Abbiamo trovato La misura giusta Andiamo 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 Volevo prendere anche la stella Defilanti Coriandoli Scherzetti Biscotini Allora io direi Di prendere Questa bacchetta Sì Di prendere questa bacchetta E il costume Uguale Sì Cosa ne dici? Attenta Vanessa Il costume è quello Di principessa rosa Principessa rosa Sì Avete preso anche questa Anche la bacchetta Volete prendere anche questa Maschera? Sì Sicura? Per papi la prendiamo? Sì Sì Cosa ne dici Vi piacerà? Vanessa Prendiamo questa maschera Eh papi Per papino Sì Ecco Ecco ragazzi Ecco ragazzi No cosa si chiamano? Schiacchiere 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 Queste sono le schiacchiere Ah prendo! Invece queste Guarda Cosa sono? Si chiamano bugie 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 A me mi piace Schiacchiere e bugie Vuoi prendere due uova? Va bene Le prendiamo? Le vuoi prendere? Sicura? Sì Vanessia tu vuoi? Stanchissima la vanacetta Va bene Prendili Bisogna prendere anche qualcosa da mangiare Sì Ma le mangeremo dopo le pacche queste Eh sì Dai prendi Carello E andiamo avanti Nooo Ma guarda Wow Ma cioè Voi volete prendere solo i dolcetti? No Questi no Hanno troppo zucchero Troppo zucchero Eccoci qua I cagli gnocchi No Quanti sono tantissimi Hai visto? Sì Veramente tantissimi Ma ci sono anche questi gnocchi Anche questi verdi No 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 Guarda Sì sì Dai Questi? Sì Sono più piccoli A voi vi piacciono quelli? Lo sai? Sì eccoli Direi che il video finisce qui Speriamo che vi sia piaciuto E restate con noi perché il prossimo video Sarà con il nostro carnevale 2023 Vestite belle E niente Non dimenticate però di iscrivervi al nostro canale E di mettere Tanti like Fatelo Ciao 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 Tantissimi bacini E tanti Cuoricini Cuoricini Anche tu vuoi? Cuoricino Così? Così Cuoricino così Così